Abbiamo approfittato di questa magnifica cornice, di questa villa bellissima di Arenzano per riunire tutti gli operatori del settore dell'outdoor di tutta la Liguria insieme a Agenzia in Liguria, All Touring Club, Bike Challenge, insomma un po' a tutti quelli che collaborano con l'assessorato per la promozione dell'outdoor in Liguria, outdoor che vuol dire trekking, che vuol dire mici da strada, che vuol dire mountain bike, per creare un prodotto da mettere poi sul mercato per attrarre nuove fette di turisti, naturalmente questo di oggi che è la prima riunione che poi proseguirà con quattro riunioni sul territorio tenute dal Touring Club che promuoverà con gli operatori, questa volta riuniti a livello provinciale, la creazione di un prodotto per attirare sul nostro territorio turisti. Ricordiamo che l'outdoor ha una grossa valenza attrattiva per i turisti, vale una fetta consistente del turismo stesso, legato sempre all'eno gastronomia, la mountain bike è in crescita come abbiamo sentito oggi dalla relazione del Touring Club e quindi voglio dire siamo fiduciosi, siamo fiduciosi che tutti collaborano assieme per creare in Liguria il paradiso dell'outdoor.